Allora oggi andrò a sostituire il pulsante, il propulsore o la stecca, questa qui in plastica sotto al pomelo del cambio, che serve per azionare la retromarcia, di un Alfa Romeo 147 e la stessa è l'Alfa Romeo GT e l'Alfa Romeo 156. Allora io andrò a smontare il pomelo del cambio perché voglio sostituire il pulsore mettendo il modello questo qui cromato, argendato, che lo montano Alfa 147Q2, GTQ2 o Ducati Corse. Io l'ho preso originale in Alfa Romeo, questo è il codice se qualcuno serve, costa, ma si dipende, una cinquantina d'euro più o meno. Ok adesso andiamo a vedere per smontare. Tiriamo in alto perché è da incastro, quindi non c'è nessuna vite, basta tirare in alto abbastanza forte, attenzione al viso, non farsi male, in alto il pomello, ecco così. Ha un mille righe incastro, quindi togliamo la molletta per il puzzante, stacchiamo la pelle del cambio, tiriamo su. Questo dente deve stare a destra, il lato. E ricordiamoci di mettere sempre un po' di grasso qui, la parte qua giù all'interno e qui sul lentino. Poi lo rinseriamo. Ovviamente ecco, il lato, questo pezzo deve stare a destra, lato passeggero. Inseriamo, tiriamo qui la pelle. Ok, mettiamo la molla, la molletta e il pomero del cambio ad incastro, che si è dritto, con i numeri dritto, qualche colpettino sopra. Perfetto, abbiamo finito. La prossima, questa è la differenza.